Passiamo adesso ad analizzare le carte acquistabili, se non altro le carte del gioco base, poi daremo uno sguardo anche all'espansione che è l'età del ferro e della ruggine, che aggiunge ben 9 carte in più e una serie di dinamiche un po' diverse ma molto molto interessanti. Allora partiamo dalle prime tre carte rosse qui in alto. La prima carta è Castra. Ogni carta chiaramente ha un effetto ben spiegato, è tutto scritto sulla carta, comunque adesso li vedremo nel dettaglio 1 a 1. Castra ci dice che possiamo piazzare un segnalino Castra su un mio esercito che non ne abbia già uno. Se questo esercito viene attaccato il numero di colpi che subisce viene ridotto di uno. Il segnalino Castra, così come i segnalini quest'ora, vengono eliminati all'inizio di ogni turno. Allora che si fa? Si prende un segnalino Castra, che è questo qui, e lo si pone ad esempio su un esercito. Ad esempio c'ho questo esercito in Africa, lo pongo qui su e mettiamo che durante una battaglia tra i nomadi e la mia legione io ho il Castra, quindi se i nomadi totalizzano due colpi, se mi colpiscono due volte, il Castra ne assorbe uno e quindi io subirei un solo colpo e la mia legione verrebbe non eliminata ma semplicemente danneggiata. Quindi diciamo che la presenza di un Castra è davvero importante se poi pensate che comunque gli scontri, anche se un avversario non viene eliminato completamente, la vittoria dello scontro si conta in base ai numeri di colpi inferti. E chiaramente se riuscite a eliminare qualche colpo subito, magari il totale dei vostri colpi inferti è maggiore e riuscite a vincere anche lo scontro e a prendere ben due punti gloria. Quindi questo è l'uso dei Castra. Poi abbiamo Manovra sul fianco. Questa carta si gioca prima di lanciare i dadi in una battaglia nella quale state attaccando, se siete l'attaccante. Dopo aver visto i risultati sia del vostro tiro e sia del tiro dell'avversario, potete giocare l'effetto della manovra sul fianco. Chiaramente lo dovete dire prima del vostro primo lancio, quindi dovete rischiare. Poi se il vostro primo lancio è comunque un lancio tutto di successi, diciamo che avete bruciato un po' la manovra sul fianco. In ogni modo la manovra sul fianco vi dà la possibilità di ritirare i vostri dadi. E non è che potete tirare un numero di dadi parziale, dovete sempre ritirarli tutti e poi ovviamente far riferimento al risultato dell'ultimo lancio effettuato. In ogni battaglia si può usare una sola Manovra sul fianco, non di più. Questo è l'effetto di Manovra sul fianco. La terza carta rossa è una carta potentissima. Verso la fine del gioco vedrete che nella vostra mano, nel vostro mazzo ci saranno tantissime carte rosse, perché sono carte che vi permettono di muovervi, di usare gli eserciti e come ho già detto in questo gioco si combatte moltissimo. La guardia pretoriana vi permette di usare punti rossi invece di punti blu per effettuare l'azione di nomina a un governatore in Italia. Quindi invece di pagare un punto blu per ogni dado, voi pagate un punto rosso per ogni dado. E questo è utile chiaramente se nel mazzo avete tante carte rosse, ma la cosa ancora più forte è che non solo utilizzate i punti rossi per comprare i dadi, ma ignorate anche la presenza di segnalini questore e unità nemiche nella capitale. I segnalini questore, come poi andremo a vedere tra qualche momento, sono segnalini che danno dei vantaggi, diciamo, riguardo ai colpi di stato. E le unità nemiche nella capitale, come abbiamo visto già nella fase predisposta, abbassano di un voto, per ogni unità nemica presente nella capitale abbassate di un voto i vostri risultati. Ovviamente con la guardia pretoriana voi ignorate entrambi questi bonus dell'avversario, quindi una carta veramente forte. Passiamo alle carte blu. La prima carta è Tributo. Tributo vi permette di pagare i barbari, li corrompete per farli stare buoni e quindi praticamente girate sul lato inattivo tutti i barbari di una singola tribù in una qualsiasi provincia. Ovviamente non nei territori di origine dei barbari. I barbari inattivi non è che non si difendono, semplicemente non vi fanno abbassare la stabilità, ma se li attaccate, anche se sono inattivi, tireranno comunque i loro dadi e quindi parteciperanno alla battaglia. Facciamo un esempio. Mettiamo che, ad esempio, il giocatore giallo qui ha tre sassanidi nel suo territorio in Asia. È una situazione complessa. Ci sono ben tre sassanidi contro una legione. Per fortuna il giallo ha una carta Tributo. Giocandola non solo prende i due punti blu della carta Tributo, ma con l'effetto può girare tutti e tre i barbari della stessa tribù, cioè dei sassanidi, sul lato inattivo e quindi prendere un po' di respiro perché non gli faranno abbassare la stabilità della sua regione. Alla fine del turno, ovviamente, nell'ultima fase, i barbari torneranno attivi, però lui magari avrà cambiato carte e quindi potrà gestirli meglio. Quindi questa è la carta Tributo. Abbiamo poi la carta Federati. La carta Federati vi permette di arruolare dei barbari nei vostri eserciti. Potete arruolare barbari, chiaramente che non siano capi barbari e che non facciano già parte dell'esercito di un altro giocatore. Potete arruolare dei barbari, ma se il numero di barbari che avete nel vostro esercito ha più legioni che barbari. Cioè nel vostro esercito praticamente non ci potranno mai essere più barbari che legioni. Il barbaro lo potete prendere da una regione adiacente a quella del vostro esercito e deve essere chiaramente un barbaro attivo. Facciamo un esempio. Ad esempio il giocatore blu. Il giocatore blu ha una legione in traccia, non ha barbari, quindi ha più legioni che barbari nel suo esercito. Il giocatore blu può decidere con la carta Federati di prendere un'unità di barbari o di gotio dalle mani a scelta e inserirla nel proprio esercito. In questo momento il suo esercito ha un'unità di barbari e una legione. E quindi in questo momento non avete più legioni che barbari. Ma se il giocatore blu aggiungesse una legione a questo esercito, in questo modo, ora avrebbe due legioni e un barbaro. Potrebbe, con un'altra carta Federato, richiamare un altro barbaro attivo da un territorio adiacente e aggiungerlo al suo esercito. E così il suo esercito adesso sarebbe composto da due barbari e due legioni. Quindi la carta Federati vi permette di aggiungere barbari nel vostro esercito. Attenzione che i barbari tirano e attaccano sempre con 4 o più. Allora, terza carta blu da eliminare. Una carta anch'essa, ovviamente quelle di valore 4 sono le più forti, ovviamente, della loro categoria. La quarta blu da nazio memoria è una carta davvero fortissima. Viene giocata di solito dopo che avete deposto un imperatore rivale. Praticamente, se siete riusciti a diventare governatori dell'Italia strappando il seggio a un imperatore di una famiglia rivale, potete, giocando questa carta, sottrarre al precedente imperatore punti gloria pari al proprio valore di stabilità dell'Italia. Se, per esempio, voi avete preso l'Italia in questo momento e avete una stabilità pari a 4, potete sottrarre ben 4 punti gloria al vecchio imperatore. Attenzione, perché c'è una variante opzionale, come potete leggere. Nel gioco base, di solito, questa carta viene giocata per tutti e due gli effetti, quindi per quello opzionale e per quello normale. Invece, nell'espansione, avete la possibilità di scegliere, magari prima di iniziare il gioco, poi lo vedremo, di non usare la variante opzionale. Nel gioco base, va usata, praticamente, si piazza, dopo aver tolto i punti gloria all'avversario, dovete piazzare nelle vostre province un numero di segnalini tumulto pari alla stabilità dell'imperatore precedente. Quindi, se l'imperatore precedente aveva stabilità 2 e voi lo avete deposto, dovete piazzare due segnalini tumulto nelle vostre province, distribuendoli come preferite. Passiamo alle carte gialle. Le carte gialle sono questore, che è l'equivalente del castra, praticamente. Piazzate un segnalino questore in una provincia che governate, dove non ce n'è già uno, non potete mai avere due questori in una provincia. E nelle province dove c'è il questore, un avversario che sta cercando di fare un colpo di stato nella vostra provincia, di prendere il controllo della vostra provincia, quando tira i dadi politici, quelli acquistati con i punti blu, per ottenere un voto, quindi un successo, non deve fare da 2 in su, ma deve fare da 3 in su. E quindi rende più difficile riuscire a conquistare una provincia, a fare un colpo di stato in una provincia. Il questore come il castra vengono rimossi nella prima fase, nella prima sequenza di gioco, nella prima fase di gioco, che è ovviamente questa, ripristino. Nella fase di ripristino si rimuovono tutti i segnalini questore e castra. Andiamo a un'altra carta molto importante, ecco, questa è una delle carte che dà più interazione al gioco e che crea più rotture e nemicizie in assoluto, il tumulto. Dovete piazzare un segnalino tumulto in una provincia che non ne abbia già uno. I tumulti sono decisamente una rogna, perché? Perché se non li eliminate alla fine del turno si moltiplicano, nel senso che si aumentano di uno. E soprattutto i tumulti, se presenti in una regione, diminuiscono il valore dei punti governo che avete per comprare le nuove carte di uno per ogni tumulto. Quindi facciamo un esempio. Io ho la carta tumulto e sono in rosso e mi gioco il tumulto, voglio mettere un tumulto in un territorio, per esempio nella tracia, nel territorio del blu. Allora, questo tumulto, se la famiglia blu non lo elimina immediatamente, alla fine del turno aumenterà di uno, quindi diventeranno due tumulti. Quando il valore dei tumulti raggiunge la stabilità della provincia, la provincia è persa, quindi l'avversario perde la provincia, ma mettiamo che qui ce n'era uno solo, il blu avrebbe preso tre, vi ricordo che i punti governo sono pari alla stabilità delle province controllate e servono a comprare le carte. Quindi il blu avrebbe avuto tre punti per la stabilità dell'Italia più due punti per la tracia, avrebbe avuto cinque punti governo, ma qui ha un tumulto e quindi il tumulto, visto che ne è uno solo, diminuisce di uno il valore, il totale dei punti accumulati, quindi invece di cinque, in questo caso, la famiglia Bruni avrebbe avuto solo quattro per comprare le carte. Quindi i tumulti sono veramente una rogna. Abbiamo visto nella fase degli azioni che potete toglierle sia militarmente, ma questo vi costa stabilità, che potete toglierla con un'azione civile, che è organizzare i giochi, che non vi fa perdere la stabilità, ma ovviamente necessita di punti gialli. Ok, questo era il tumulto. Abbiamo poi la carta, un'altra delle carte più belle, Usurpatore, perché abbiamo visto che nel gioco c'è la possibilità di dichiararsi imperatori, chiaramente governando l'Italia, ci sono poi dei governatori rivali che vengono fuori dagli eventi e c'è la possibilità di dichiararsi Usurpatori. Ecco, più Usurpatori possono esserci sul tabellone, ci può essere un solo imperatore, ma ci possono essere anche due, tre Usurpatori. Ognuno che ha questa carta e che ha i requisiti per giocarla può diventare Usurpatore. Come si diventa Usurpatori? Come sta scritto qui, per diventare Usurpatori, ovviamente potete farlo se non siete imperatori e se governate due o più province adiacenti, ognuna delle quali con stabilità di tre o più. Quindi piazzate un segnalino centro di potere in una di queste province, segnalini se cessione le restanti. Che succede? Guardiamo un esempio. Il rosso ha tre province, Spagna, Africa e Egitto, tutte e tre con stabilità 3. A questo punto alla carta Usurpatore, se la può giocare, in realtà ne bastavano due con stabilità 3 che fossero adiacenti e come abbiamo già detto Spagna e Africa sono considerate due regioni adiacenti, quindi tutte le regioni sono adiacenti, tutte le regioni hanno stabilità 3, il rosso può dichiararsi Usurpatore. Cala la carta Usurpatore, guadagna i 4 punti gialli che può spendere per un'azione gialla e che fa? Prende un segnalino centro di potere e lo mette in una di queste tre regioni a sua scelta e chiaramente questo segnalino di potere indica qual è la capitale dell'impero dell'Usurpatore. È una scelta importante perché se qualcuno vi leva la capitale decade tutto l'impero dell'Usurpatore. Quindi attenzione a dove lo mettete? Mettiamo che il rosso la vuole mettere in Spagna. Dopodiché si prendono questi altri segnalini che sono i segnalini di secessione e si mettono in ogni provincia adiacente alla capitale. Ovviamente essere Usurpatori ha un suo vantaggio, come abbiamo visto c'è proprio tutta una fase dedicata all'Usurpatore, questa qui espansione dell'impero dell'Usurpatore, perché se io conquistassi un'altra provincia, la Siria per esempio, e la portassi a tre come stabilità, parliamo sempre del rosso, se io conquisto la Siria e la porto a tre di stabilità automaticamente qualsiasi provincia adiacente alle mie province già in secessione dell'impero dell'Usurpatore diventano in secessione anch'esse. E perché è importante avere province in secessione? Perché l'Usurpatore, un po' come l'imperatore, prende alla fine del turno tanti punti gloria quante sono le province del suo impero. Quindi tutte le province in secessione più la capitale. Inoltre essere Usurpatori abbiamo visto che danneggia l'imperatore in carica perché non è più un imperatore in contrastato, non andrà avanti col suo simbolo quadrato, qui il token quadrato dell'imperatore, non andrà avanti sul tracciato, quindi non avanzerà e non avrà magari il bonus finale, potrebbe essere superato. E poi, cosa ancora più importante, l'Usurpatore fa abbassare la stabilità dell'Italia di un punto durante la verifica della stabilità. Quindi già la presenza di un Usurpatore che diminuisce gradualmente la stabilità dell'Italia. E cosa ancora più importante, tutte le province in secessione e la capitale dell'Usurpatore, praticamente tutte le province che fanno parte dell'imperatore sono immuni all'azione e nomina un governatore. Praticamente nelle province di un Usurpatore non si possono effettuare colpi di Stato, devono essere praticamente strappate con la forza. Quindi essere Usurpatori è veramente un'azione ottima sia per contrastare l'imperatore in carica, sia per fare punti e sia per mantenere un controllo saldo sulle proprie province. Abbiamo visto tutte e nove le carte, sono carte molto interessanti, ovviamente potete avere più copie della stessa carta, anche se le carte da due punti sono nuove in totale. Una volta finite, chiaramente non se ne potranno prendere di più di quel tipo di carte. Le carte da tre punti sono otto e le carte da quattro sono solo sei. Quindi se un giocatore se le prende tutte e sei, diciamo che gli altri restano a bocca asciutta. Ok, viste tutte le carte, faremo poi nel nostro ultimo video, parleremo dell'espansione, che come vi dicevo è una vera chicca e aggiunge altre nuove carte molto molto potenti.